Il calo delle nascite degli ultimi anni a Padova sta ora producendo i suoi effetti negativi nelle scuole primarie e le cosiddette elementari. Sono 42 in città e quelle che non offrono il tempo pieno fino al pomeriggio sono quelle più a rischio, tanto da dover formare classi uniche che all'interno hanno più gruppi diversi di età diverse, come la di Amicis in zona Porta Trento, che al momento ha 26 iscritti in totale e che farà una classe unica. Ci sono a Padova alcuni esempi di pluriclasse, cioè laddove ci sono i numeri che non possono formare una classe si accorpano perché giuridicamente diventi una classe. Addirittura c'è una scuola vicino al centro che ha un'unica pluriclasse e questa sarà una delle scuole più attenzionate perché vedremo gli sviluppi della situazione. Queste scuole sono a rischio chiusura anche per i costi della struttura, della manutenzione, del personale e degli insegnanti, ma ci sono anche realtà opposte dove il calo non si vede. Ci sono quartieri giovani come l'Arcella per esempio che ha, nonostante la denatalità, classi piene, ha due sezioni per classe, addirittura la salvo d'acquisto del quartiere Arcella ha tre quarte e poi due sezioni delle altre classi. Anche in centro esiste una scuola con dieci classi piene, merito del quartiere, della composizione delle famiglie, situazioni simili anche alla Sacra Famiglia e alla Guizza. Quello che preoccupa un po' sono queste scuole a tempo antimeridiano che vengono poco scelte.